Prosegue l'iter per la realizzazione del progetto di illuminazione del castello di Pietrarossa attraverso un finanziamento regionale. Il Comune Nisseno aveva infatti risposto all'avviso pubblico della Regione relativa a contributi a Sportello per sostenere proposte progettuali volte a garantire una illuminazione artistica esterna dei castelli, manieri, fortezze e torri di Sicilia. Adesso l'assessore Marcello Frangiamone ha annunciato delle novità attraverso i social. Quella dell'illuminazione era un'idea che era stata proposta in passato anche da Italia Nostra Sicilia Il castello è uno dei simboli della città e che è stato raccontato anche dall'architetto Mario Cassetti nel suo libro Il Castello di Pietrarossa, storia e restauro. Il dirigente generale dell'assessorato regionale ai beni culturali ha firmato il decreto di finanziamento del progetto per l'illuminazione artistica del castello di Pietrarossa. Con questo finanziamento avremo finalmente la possibilità di illuminare artisticamente il castello di Pietrarossa che è il simbolo della nostra città e finalmente potrà essere visibile anche di notte da ogni punto osservato. Una volta che la regione trasferirà le risorse alle casse comunali si procederà immediatamente a mettere a bando i lavori di illuminazione del castello sulla base del progetto esecutivo che era stato inviato alla regione ed approvato anche dalla Soprendendenza ai beni culturali e ambientali di Caltanissetta.